Exxon Antics, siamo qui oggi per presentarvi questa bellissima Peugeot 5008 Station Veydon 1.5 Blue HD 130 CV in versione al workback. La vettura è un giugno 2021 con all'antivo 58.000 km certificati e la presentiamo in questo fantastico grigio platinum. Sulla parte interiore della vettura spiccano subito i fari full LED con griglia con finiture e pomade. Inoltre presenti anche sensori di posteggio anteriori. Sulla parte laterale della vettura troviamo un cerchio diamantato da 17 pollici, finiture cromate e vetri posteriori oscurati. Nella parte posteriore possiamo andare subito a notare i sensori di posteggio, l'annessa telecamera, questo piccolo spoiler e un bagagliario dalle dimensioni molto generose con una cappelliera in ecopelle. Nella parte posteriore della vettura troviamo alzacristalli elettrici a ganci ISO fix di ambo i lati e questi fantastici sedili in pelle messo a tessuto con cucitura a contrasto bianche. Presenti inoltre bocchette per l'aria e una presa di ricarica a 12 Volt. Molto comodi anche questi portaoggetti. Nella parte anteriore della vettura, al lato guidatore, troviamo appunto gestione elettronica degli alzacristalli anteriori e posteriori, chiusura centralizzata e gestione anche essa elettronica degli specchietti retrovisori. Abbiamo appunto fari automatici e tergicristalli automatici. Abbiamo inoltre un fantastico volante a due razze, dalle piccole dimensioni che caratterizza appunto il logo Peugeot. Sulla parte sinistra troviamo tutto ciò che è inerente alla gestione delle chiamate, mentre sulla parte di destra tutto ciò che è inerente alla gestione dell'infotainment. Troviamo inoltre anche questi pad dal volante che donano un look più aggressivo alla vettura e che permettono di migliorare l'esperienza di guida. In parte centrale abbiamo una console molto generosa, il nostro display al quale si può collegare il telefono tramite Apple CarPlay o Android Auto e sotto di esso dei tassi inerenti appunto alla gestione del clima, della radio stessa, del navigatore. Abbiamo un cambio automatico, un drive mode con il relativo selettore e questo comodo porta oggetti con presa 12V annessa. Ultimo ma non ultimo, questa fantastica plancia rifinita in carbon look. Anche all'alteriore presenti sedili da look molto sportivo, anche qui pelle, misto tessuto. Venite a scoprire questa e numerose altre vetture sul nostro sito Rattis.com Grazie. Grazie a tutti.